passion bike 1 shopping e vendita di marconetto paola in via al colletto 4 a pinerola nella nostra ampia esposizione ti offriamo tutti i tipi di biciclette dalla specialissima a quella da bambino bici elettriche home fitness abbigliamento e accessori da passion bike 1 troverai la giusta bicicletta il giusto accessorio per la tua sicurezza è un confortevole abbigliamento su misura per te visita la nostra pagina facebook www.facebook.com slash passion bike 1 pinerolo e scopri le nostre promozioni oppure chiama 0 1 2 1 3 7 8 2 1 4 la passion bike 1 in via al colletto 4 a pinerola biciclette per passione e non solo